La Digital Factory è l'ufficio che in Banca IFIS si occupa di digitalizzazione sia dei processi interni che dell'esperienza verso il cliente, a cui dobbiamo garantire la migliore user experience possibile mediante gli strumenti digitali. La Digital Factory è nata circa quattro anni fa in Banca IFIS abbiamo avviato una serie di iniziative, tra cui le due che esistono che abbiamo presentato oggi relativamente alla digitalizzazione dei processi di raccolta dei riconoscimenti dei debiti piuttosto che delle proposte di dilazioni che riceviamo da parte dei nostri clienti. Quindi in un caso abbiamo realizzato una soluzione di firma elettronica avanzata in modalità grafometrica e in questo modo tutti i nostri agenti mediante tablet raccolgono la firma elettronica da parte dei nostri clienti direttamente sul tablet andando ad abbattere tutto l'utilizzo della carta e a velocizzare tutte le operazioni di spedizione della documentazione e analisi da parte del back office. In un altro caso invece abbiamo digitalizzato la raccolta delle proposte di dilazione piuttosto che dei riconoscimenti di debito al call center mediante una soluzione che consente di andare a registrare i file audio delle telefonate a farne un apposito trattamento a norma di legge mediante degli strumenti di marca temporale, cifratura dei file audio e quindi conservazione a norma per tutto il tempo previsto dalla legislazione. L'adozione di questa tipologia di soluzioni sicuramente comporta un risparmio immediato in tutta la gestione della carta e della materialità ma il vero vantaggio è che consente di velocizzare lo scambio di informazioni e di pratiche tra la nostra rete e il back office affinché possiamo dare delle risposte sempre più immediate e veloci alla nostra clientela. Inoltre l'utilizzo di soluzioni di firme elettroniche qualificate o avanzate che siano ha sicuramente un grado di sicurezza molto più elevato rispetto alla tradizionale firma autografa a cui siamo tutti abituati.